Nel pomeriggio di oggi parte la seconda edizione di un convegno internazionale che abbiamo con i colleghi di Boston sulla simulazione pediatrica, le nuove frontiere. Questo convegno arriva alla fine di una settimana in cui abbiamo avuto più workshop con i colleghi di Boston e in cui abbiamo evidenziato un nuovo approccio alla simulazione, quella che loro definiscono la simulazione 2.0. La simulazione è molto felice per lavorare con il Meijer Children's Hospital e con Marco De Luca e il team. La simulazione viene dall'interno della scuola e inizia alla scuola. Quindi è usato ogni giorno per testare gli ambienti, per migliorare il nostro care, per migliorare l'efficienza e i nostri risultati per effettare le lives di donne che sono a Meijer Hospital e all'interno del mondo. E noi non potremmo essere più felice di partire con il Boston Children's Hospital e il Meijer Children's Hospital qui in Firenze. Lo che sta succedendo qui è unico, non solo in Italia, ma all'interno del mondo. Harnessing il potere di simulazione, non solo per migliorare la simulazione, ma per modellare la forma che i bambini sono costruzati, la forma che le team interaggono in ambienti di alto rischio. Meijer va a prendere la simulazione in medicina, molto più oltre a dove si è praticato, in qualunque altro nel mondo. Quindi, grazie e buona luce. Siamo a un momento di svolta per questo grande complesso di didattica e formazione del MAE, perché abbiamo appena approvato questo progetto esecutivo per oltre 4 milioni di euro per completare l'allestimento e la ristrutturazione di questo luogo. Il cuore di questo campus sarà il centro di simulazione che auspichiamo possa davvero diventare, come già lo è oggi un riferimento nazionale, un riferimento a livello europeo. L'aula è piena, quindi saranno più di 70 persone e vengono più o meno da tutta Italia. Grazie al nostro network la simulazione pediatrica si sta diffondendo non solo nella regione toscana, ma anche fuori regione e negli ultimi corsi addirittura dei colleghi sono venuti dalla Svizzera.